Sono Caterina e sono l'ideatrice di Airtouch. Con il nostro prodotto riuscirai durante la fase di volo ad avere tutti i servizi a tua completa disposizione. Grazie al nostro prodotto potrai ascoltare musica, guardare film e video. Inoltre potrai costantemente osservare la tua posizione in fase di volo. Sarà infine possibile registrare dei piccoli video nei quali descrivere la propria esperienza. E tutto questo a portata di Satch.